Estra offre un lavoro per due mesi in un'azienda verde europea a 105 studenti di 11 istituti tecnici e professionali di Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria. È il progetto Extrares di Estra finanziato dal programma europeo Erasmus Plus. La casa di cura Villa Fiorita è tutta wifi. Estracom ha realizzato nella clinica di Prato un'infrastruttura informatica che consente al personale sanitario di gestire in sicurezza, riservatezza e in tempo reale i dati clinici. Estra e le società di Estra Sport Club hanno premiato i giornalisti sportivi di Arezzo. La cerimonia della seconda edizione del premio si è svolta nella Sala dei Grandi. San Geminiano, illuminata da Estra. Il gruppo energetico è stato il principale sponsor della terza edizione di Lumiere 2015.